Con Closing Party, arrivederci e grazie, è tornata la rassegna inviti di sosta al Teatro Mecenate di Arezzo in Prima Nazionale, il duetto dal carattere politico e divertente di Alessandro Bernardeschi e Mauro Paccagnella alias Washing Machine. Una sottacca, una sottacca. La portiamo addosso e cerchiamo di ritrasferirla nelle azioni, nei gesti, nelle proposizioni che facciamo. Closing Party chiude la trilogia della memoria, una festa senza lustrini che offre l'opportunità di riflettere e intravedere gli ultimi sussulti delle grandi utopie della storia, con umorismo spesso nero e leggerezza con poesia ed esperienza. La danza era quando ero giovane la forma, espressione, prodezza, virilità o leggerezza. Adesso il corpo è portatore di memoria, portatore di storie. Le fragilità diventano delle qualità. Quando ero giovane le fragilità le tenevo distante. Invece adesso diventano proprio queste fragilità, diventano importanti. Le fragilità più sono accompagnate da una coscientizzazione di questo, il che vuol dire memoria, storia, conoscenza relativa, perché non è che dobbiamo essere tutti iperintelligenti per poter fare gli spettacoli, però una sensibilità di quel tipo là, certo, è importante. Ci sorridiamo per dire, a rivederci.